Ciao, facciamo un salto a vedere come vanno i lavori nella casa nuova. Ok, siamo arrivati su. Andiamo a vedere come va? Ok. Oh, un uccello. Oh, venite un po'? Allora, qui ci sarà il terrazzo, qui ci sarà la cucina, il tavolo, tutti gli arvedi della cucina. Qui ci sarà la camera per Valeria e Riccardo quando vengono. Questo è il letto. E qui il bagno. Dopo. Andiamo di là? Ok, andiamo a vedere. Pronti per andare nella zona notte? Ok. Andiamo a dormire. Ok. Ta-ta! Dove ricordo che era così lunga. Qui c'è il corridoio, qui c'è un piccolo scapuzzino. E qui ci sono i bagni. Bagno uno. Bagno due. Qua c'è una bella camera matrimoniale. Grandissima. Me la ricordate un piccolo? Sì. Il terrazzo. Si possono fare tanti con la sua? Eh sì. Qua sotto sono i condizionatori. Qua ci sono i tetti. Andiamo? Dentro. Possiamo anche mettere in sotto. Eh sì. Anche la piscinetta. Della piscinetta. Ok. Allora, questo è il corridoio. Camera vostra, ragazzi. Entrate in camera vostra. Nico, vai anche tu? Sì. Provate a dormire. Come si sta? Si dorme bene? Sì. Sì. Vedetevi lì. Ecco, così Nico, anche tu dormi. Fai vedere come dormi. Ok. Qua la porta per entrare in camera vostra. Ah no, dov'è? Qua. La porta. E lì è la camera di Massimo e Stella. Ok. Andiamo? Devi andare in bagno. Sì. 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 Ti piace, Nico? Sì. Non è che si veda molto, però. Ciao. 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 Andiamo. Andiamo. Sì. 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 Buongiorno. È passata solo una settimana. Guardate nel quadratino. Siamo venuti a vedere come procedono i lavori nella casa nuova. Andiamo a vedere. Allora, vediamo. Allora, vediamo. Eccoli. Aspetta che giriamo la vista. Ok. Siamo arrivati. Prendiamo le sali. Zona e giorno. Vediamo come va. Beh, i divisori che c'erano già prima. Qui hanno coibentato. Visto? Sì. Questo sarebbe il soggiornino. Sì. Alla fine ti vanno usati, la televisione, anzi. Il soggiornino. Non ci siamo portati un metro. La prossima volta, Stella, io metto un metro in borsa. Allora, abbiamo la piantina. Sì, sì. Possiamo calcolarlo da lì. No, ma comunque... Lì c'è il terrazzino. Questo è tutto terrazzo. Questo è tutto terrazzo. E qui la cucina. Oh, che strano. Che dici? La cucina è abbastanza grande. Sì. 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 Per me lo vengo. Sì. Io metto qua sul divano in spot e guarda... E qua c'è la tv. Ok. Si sta. Ma sì. Si sta. Perché effettivamente così quella stanza ha senso. Ci si può mettere... Quella viene... Anche ora viene una bella stanzetta. Esatto. No. Ok. Andiamo a vedere di là. Andiamo a vedere di là. Qui cosa stava? Antibagno e bagno. Antibagno. Sì. Non volevo vedere di bagno. Ok. Di qua. Grazie Stella. Sono là. Ok. Tutto coibentato qua. Tutto. 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 Guarda. Oltre c'è la ripostiglietta. Oh. Sì. Ripostiglietto. Bagnetto. Bagnetto. Dobbiamo vedere la distanza. Questa è la porta. La porta. Guarda. Di qua un po' c'è di più. Sì. Viaggia in me. Conviene invertire allora. Sì. Perché c'è questo spazio qui che è più piccolo. Sì. Aspetta che allargo un po'. Sì. Guarda. Questo spazio qui è più piccolo che quello. Sì. Ma anche questo spazio qua. Tra il muro e il muro. Ah. Ecco. Allora conviene invertire. Doccia qua. Sì. A meno che forse non gli sia più comodo per le tubature. No. Lui ha detto che era uguale per lui. Ok. Quindi doccia di qua. E di là. Ok. 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 Camere. Tutto coibentato. Tutto coibentato. Questa è la camera. Che c'è? Che c'è? Qui c'è il problema della finestra. Solo da risolvere. Mi chiedevano. Ma cosa calcolano se ti illumina? Mi ha un ottavo della stanza. Non lo so. Veramente. Perché pensavo. Scusa. Tu ci metti uno specchio. Allora ti illumina di più. Parlando di Massimo. Devo un attimo di aspettare. Che mi sarà la camera nostra. Scusa. E se Massimo la scrive a mia. Potrei dire Massimo che non sa qualcosa. E non comprendo. C'è la porta. Le chiavi? Ce l'ho io si. Ok. Vai, vai. Scale o? Ascessore. Ascessore. Per quanto l'ascensore viene da adesso? Ok. Il prossimo aggiornamento tra un paio di settimane. ciao ciao cominciamo con questa grande impresa che è svuotare questo mobile e decidere cosa tenere cosa buttare è stra stra pieno disastro